Mi chiamo Sergio Seritti e sono architetto del 1985. La mia progettazione fonde design e funzionalità realizzando prodotti originali ed esclusivi. Grazie all'uso di programmi professionali diamo la possibilità al cliente di visualizzare già il prodotto finito attraverso un'immagine realistica. Garantisco levate prestazioni energetiche e la sostenibilità dell'ambiente. Sono sempre attento al rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti. La soddisfazione del cliente e la redditività del gestore sono dei tagli molto importanti per me. Una buon'opera architettonica deve essere sì bella ma deve essere anche utile e deve essere robusta. Realizziamo foto e filmati di interni ed esterni con drone per l'ispezione di aree anche inaccessibili e foto inserimenti dall'alto. Amo le sfide! Amo le sfide! Grazie a tutti.